Buonasera a tutti, anzi buongiorno a tutti, benvenuti per trovare un nuovo video sul mio canale questo oggi siamo ancora a fare video pronostici, analisi della settima giornata dell'Australian Open ragazzi mi dispiace che non sia uscito quando dovevo uscire perché non è uscito ieri perché ho commesso un errore io, perché mi sono addormentato, perché ragazzi c'era molto sonno infatti adesso mi sono appena svegliato alle 5 e mezza quindi se mi vedete assonnato chiedo scusa, chiedo scusa per la mancanza di professionalità non me la perdono, lo so che sono già state giocate la metà delle partite oggi però comunque sia, parlerò delle partite come se non fossero già state giocate tutte le partite che ci interessano di più, ValiSinner, ci sarà live in questo momento ragazzi staremo già in live, alle 6 sul canale di 2 e notte sports, Walter 1 e oltre alla live sul canale di Walter ci sarà anche ci sarà anche oddio ragazzi mi viene ci sarà anche il video post partita di Sin e poi ci saranno i due video e ci sarà anche il video recap di questa giornata e il video è nel separazione della giornata dopo ovviamente ragazzi sono già usciti i tabelloni e no, però vabbè comunque sia, eh sì, dai, volevo dire allora, Djokovic-Manarino primo ottavo di finale che giocano sul notturno sappiamo già com'è finita però comunque sia, il mio pronostico, la mia idea era che Djokovic avrebbe vinto in 3 ed è un Djokovic che ho visto molto meglio che Nocevera rispetto alle prime due partite è un Djokovic che si è risvegliato e quindi questo è un Djokovic che che secondo me parte nettamente favorito con Manarino è salvo sorprese, è salvo di Sassa, di Djokovic assolutamente inaspettati non dovrebbero essere c'è assolutamente problemi a parte del tenista francese comunque sia, è lui il favore del torneo è lui il re nella roblevera arena è lui il re nella storia di Noco e quindi credo che a meno che a meno che non affronti Sinnero, Akraso, Medvedev con tutti gli altri non ha problemi poi con quegli altri sicuramente sarà più complessa ma perché con loro tra i due partiti è favorito con tutti e tre e sicuramente Djokovic parte favorito ovviamente senza alcun tipo di dubbio Fritz e Tsitsipas le quote d'hanno favorito Tsitsipas ha casi di pochissimo insomma 1,70 contro 2 per essere poco io d'ho favorito Fritz secondo me questa partita la vincera Taylor-Fritz perché comunque sia il tenista delle strisce non ha giocato nemmeno malissimo in questo Strain Open nel senso che non ha giocato benissimo non ha nemmeno giocato malissimo e invece invece Tsitsipas pure sta giocando abbastanza bene ma onestamente mi convince più Fritz che Tsitsipas mi auguro veramente che vinca Fritz perché se no il mio Fanta Tennis è veramente un disastro perché avrei anche solamente Djokovic e Andreva in campo perché veramente sarebbe massacrante nel senso il mio Fanta Tennis questo Strain Open mi è andato malissimo Leo Rezbiontek sicuramente ma male 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 io vi dico che vincerà Fritz francamente in 5-4-7 insomma sono di quest'idea credo che il tennista se le strisce per il punto vincerà non vedo chi si possa vincere credo che vinca sì credo che vinca Fritz e qualora se si possa dovesse uscire a questo round scenderebbe la nona posizione cioè scenderebbe proprio in basso quest'anno probabilmente si passa le 10 non ci resta Sinner Kachanov parte sicuramente ben favorito Kachanov nei confronti di scusatemi ben favorito Sinner nei confronti di Kachanov Kachanov comunque si è il tennista è un tennista forte è un tennista consistente di questo bisogna dargliene atto perché comunque sia la consistenza di Kachanov è ottima l'anno scorso ha fatto semi in Australia l'anno scorso ha fatto quarti a Parigi e aveva fatto semi lo io so con due anni prima nel 2022 quindi ragazzi non è una statuna semifinale per il caso è una statuna semifinale perché comunque sia è un tennista che gioca bene un tennista che gioca bene a tennis l'anno scorso è anche rientrato nei 10 verso India Wells o Miami anche se per poco però secondo me Sinner dovrebbe vincere le 3 qualora dovesse giocare bene come ha giocato le ultime partite poi le ultime partite le ha vitte la manifesto la superiorità perché era veramente più forte nel senso era veramente più forte con Kachanov comunque sia più forte però già inizia ad essere un avversario di livello superiore quindi sale il livello sale il livello di difficoltà dell'avversario sale il livello di difficoltà della partita però secondo me Sinner dovrebbe vincere comunque in 3 sotto le 2 ora magari no sotto le 3 secondo me io lo so posti per questo ce n'erano tutti dopo Deminara affronterà Andrei Rublyov io ragazzi se ve lo dico come ho detto all'inizio torneo per me alla fine vincerà Deminara per quanto Rublyov sia uno dei giocatori più consistenti del circuito togliendo ovviamente Djokovic per quanto Rublyov abbia più esperienza visto che è arrivato a 9 quarti di finale io ragazzi credo che Deminara alla fine vincerà uno perché è il favoreto di casa è il favoreto di casa al pubblico a favore e insomma secondo me la Rod Lever Arena sarà una bolgia nel momento nel quale nel momento in cui questi due del listi entreranno in campo sarà una bolgia una bolgia che sarà a favore di Deminara sappiamo come Rublyov si possa inerrosire facilmente non dal pubblico ma anche se con Sebot ragazzi si è visto per questo motivo vi dico che alla fine una partita da 4-5-7 la spunterà il tennista australiano perché al pubblico di casa questo è il suo torneo questo è il suo momento è il momento migliore se ci sta un momento nel quale Deminara può provare ad arrivare in fondo a questo slam è proprio quest'anno poi abbiamo anche nel WTA abbiamo Goff che ha fatto la Freck ragazzi parte ovviamente nettamente favorita Coco Goff che sta giocando un grande tennis che sta mantenendo i pronostici non sta facendo come Spiontek che li ha traditi in questo caso come Goff parte favorita non dovrebbero esserci doppi in toppi contro la tennista polacca onestamente non vedo come 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 Goff possa possa perdere a meno che non ci ritroviamo una Goff e giocare male come non ha mai giocato poi passiamo a Sabalenka punto Anisimova qua lo stesso discorso ma ancora peggio adesso Sabalenka è stata una terminator in questo Open d'Australia è stata assolutamente dominante io non credo che Arena avrà grossi problemi a estromettere Anisimova dal torneo per quanto la tennista stelle strecce sia una tennista ostica ma per me ragazzi questa questa Sabalenka questa Sabalenka che stiamo vedendo è più ostica di questa Anisimova ed è la tennista più forte ragazzi una cosa che ho notato del femminile rispetto al maschile è che tra un duo al mondo tra le primissime e un 100 un 50 ragazzi ci sta proprio un altro livello io ho visto la partita di Mira che per quanto io apprezzi tantissimo come che il Nis mi sta salvando mentre salvando il pantatennis però ragazzi il livello diceva io andrei a fare visto il terzo set a confronto a Sabalenka la velocità di palla è un'altra storia nel senso quindi Sabalenka sta proprio giocando un altro sport e mi dico che Mira non appena affronteva Rina se dovesse arrivare ad affrontarla che già non sarebbe male purtroppo non credo che avrà molto scampo anche perché Sabalenka in una forma mostruosa infatti questa strana open non so come possa scivolargli e scivolarle di mano Kostiuk Timofeva 6-2 6-2 no ho fatto ma c'è lo 6-2 scone io all'inizio avrei visto favorita sempre Kostiuk di poco ma avrei detto che magari l'upset era possibile mi sarebbe giocato un upset di Timofeva visto che sta giocando così bene non credo che questa attività ragazzi finirà in set dominati onestamente penso che ci sarà l'otto perché un quesito hanno due giocatori che a livello di gioco non è stato lo strano per solo vicine anche se non a livello di classifica poi ultima volta del giorno Andreva contro Krasikova parteva un rete ma attenzione a Krasikova che ha l'esperienza dell'osa parte ma come detto Murray e chi ha criticato i commentatori ha detto che l'ha vinta per la sua forza mentale e insomma secondo me Andreva vincerà alla fin fine ma come detto contro Sabalenka è veramente veramente difficile non credo che sia Sabalenka la può perdere solo da Sbjot e guardare Pachino da Goff da queste forse anche da Pecula magari da queste qua sotto ma in particolar modo dalle altre tre due sono date fuori Giubionta che è stata una catastrofe stupenda Australia adesso Sabalenka veramente secondo me ha la chance della vita di vincere uno slam cioè l'ha già vinto uno slam però ha la chance della vita per vincere un altro slam e comunque sia si meriterebbe perché Sabalenka è veramente fortissimo ragazzi il video di oggi è tutto io chiedo ancora scusa per aver mancato di non proprio professionalità questo sono io ad essere ossessivo con la professionalità e ne abuso anche di questa quindi lo so vedere del basso la professionalità mi scuso che non aver fatto il video ragazzi è successo non me lo sarei aspettato onestamente però esce lo stesso lo so questo dito praticamente lo vedrete in meno persone che è normale perché tutti stare da vedere con la live io vi ringrazio per il supporto al canale ragazzi mancano due iscritti siamo avanti con la tabella di marcia è un obiettivo altissimo questo è dei 300 prima della fine della Australian Open e siamo a 298 iscritti quando stiamo al day 7 quindi o al day 8 il giorno è questo l'ottavo il settimo giorno e questo è è il settimo l'ottavo io sia l'ottavo però comunque si sono 15 il giorno della Australian Open quindi cerchiamo di arrivarci oggi credo che questo veramente potrebbe essere il giorno soprattutto con la post partita di SIN adesso che vada bene come quell'altro che ha fatto 1700 visualizzazioni sarà comunque sia difficile ma sono convinto che questo post partita possa andare bene ragazzi perché quello prima pure aveva fatto 400 decisioni ragazzi ci si vede tra pochissimo in live tra pochissimo con il post partita di SIN io vi ringrazio tantissimo per il supporto al canale e noi ci si vediamo in un nuovo video